Il rapporto tra giustizia ed imprese è stato al centro del convegno organizzato da Confindustria Abruzzo nell'auditorium San Carlo a Teramo. Con questa iniziativa la Confindustria ha voluto mettere a confronto le imprese, le istituzioni e la politica coinvolgendo anche i principali ordini professionali al fine di cercare di dare delle risposte alle tante questioni che attengono il complesso rapporto tra il mondo dell'economia e quello della giustizia. Su piano civile abbiamo una serie di problemi legati ai vari ambiti di competenza, poi c'è il sistema della giustizia amministrativa, giustizia del lavoro, tutti argomenti che investono in maniera diretta la responsabilità delle imprese. Uno degli effetti più nefasti della crisi economiche che abbiamo alle spalle, dell'aumento del numero dei fallimenti e delle procedure concursuali. Per fortuna il nostro ordinamento ha fornito risposte alternative di risoluzione delle crisi d'impresa, concordate in continuità, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, i pianeti stati, cioè se un'impresa in crisi non necessariamente deve morire, se ha ancora energia, forza, potenzialità di mercato può e deve vivere. Il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli nel suo intervento ha sottolineato come il nostro paese per troppo tempo sia convissuto con un pregiudizio anti-impresa, un clima che starebbe cambiando grazie agli interventi messi in atto dal governo per andare incontro al tessuto imprenditoriale. Questo governo ha dato una prima risposta nel 2014 quando è diventato obbligatorio il processo civile telematico e sono state messe in atto una serie di misure per smaltire l'arretrato. Proprio in questi giorni è stata approvata alla Camera la riforma del processo civile che va nella direzione della specializzazione in quanto rafforza le competenze delle sezioni specializzate per le imprese e rende il rito in primo grado più veloce. A livello nazionale l'incertezza della giustizia civile, la sua lentezza, pesa due punti percentuali di PIL, quasi 32 miliardi di euro. A livello regionale c'è anche un grande peso per quanto riguarda l'incertezza e la lentezza della giustizia civile.